Ultime due tappe per Cambiamarcia. L'iniziativa intrapresa dal padulese Marco Vegliante è partito in sella alla sua bicicletta da Milano lo scorso 11 luglio per raggiungere la Certosa di San Lorenzo dopo aver superato sei regioni e pedalato per oltre 1500 chilometri divisi in 23 tappe. È previsto per domani 8 agosto alle 18 l'atteso arrivo di Marco nel suo paese d'origine. Lo scopo del viaggio è stato quello di promuovere la ricerca sul cancro e la prevenzione ma anche di veicolare un messaggio di speranza dedicato a tutte le persone che stanno lottando contro questo male. Lo slogan scelto infatti è non fermarti davanti alla salita cambia marcia e continua a pedalare. Tra oggi e domani Marco Vegliante percorrerà gli ultimi chilometri del suo lungo e appassionante viaggio che da Policastro lo porterà a Stanza e poi a Padula per un'ultima tappa che unirà due dei siti turistici più importanti della campagna ossia il Monte Cervati e la Certosa di San Lorenzo. Nella scalata al Cervati Marco sarà accompagnato dagli iscritti alle associazioni cicloturistiche Bike in Tour Europa Bike e La Vita è un ciclo che scorteranno Marco fino a Padula. Domani alle 18 nella corte della spezieria il ciclista sarà accolto dalle istituzioni locali, dai familiari, dagli amici e da tutte le persone che l'hanno sostenuto in questo viaggio. L'importante iniziativa ha permesso finora di raccogliere oltre 12 mila euro per la ricerca contro il cancro e domani durante la serata sarà ancora possibile contribuire alla raccolta fondi con una donazione libera in cambio della quale si riceverà un simpatico omaggio.